ciao bellezze spero che questa sia la volta buona perché ho già iniziato questo video un paio di volte mi sono dovuta fermare come vedete sto accarezzando un musetto pelosone perché c'è la mia cucciolona o la mia testa ti vuoi far vedere testa nel vivo e compreso anche testa non so scherzo amore viene su su ciao amore ciao dai un bacino dai un bacino fai ciao non mi sporcare tutta però non è dolcissimo lei bella 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 no fai una brava no non sto giocando non prendere niente questi sono i trucchi di mamma no neanche la liquidizia allora stavo dicendo una parola in certo allora come avete notato video giveaway cosa c'è in palio ho pensato alle vostre ciglia allora ci sono due brand differenti e li ho acquistati tutti e due da sephora e sto parlando del tinded primer di real della benefit eccolo qua questo che praticamente è sia primer che appunto mascara vero e proprio perché comunque è colorato e marrone quindi potete metterlo anche così semplicemente siete insomma siete truccate no tessa no no non si toccano le cose di mano quindi di real e poi ovviamente se ci aggiungete un mascara che è ancora già ancora che di per sé già un mascara volumizzante e allungante è uguale alle vostre ciglia voleranno sto parlando di un brand bellissimo per me too face il better than sex che appunto come sapete tutte volumizza lunga insomma un sacco di cose ed è bellissimo quindi questo combo è per voi quindi benefit e too face questi sono i due regalini per voi spero vi piacciono perché hanno piacciono tantissimo infatti questo ce l'avevo l'ho già comprato anche per me l'ho già utilizzato ed è bello mi avete visto anche forse in qualche tutorial appunto utilizzarlo allora quali sono mi tolgo gli occhiali così non c'è il riflesso delle lenti quali sono le regole per poter partecipare e quindi poter vincere il giveaway allora innanzitutto essere iscritto al canale è ovvio se no non avrebbe senso poi ovviamente non voglio un commento del tipo condivido partecipo condivido carino cioè scrivete tessa non romper niente scrivete una frase di senso compiuto insomma un qualcosa di carino magari un suggerimento su come posso rendere più carino il canale piuttosto che di un prodotto che volete che io parli un trucco particolare che voi volete vedere insomma un qualsiasi consiglio è ben accetto e soprattutto i complimenti a tessa sono ben accetti vero amore? vero tesorina? e se no se volete oltre a mascara ve l'ho detto vi mando pure a tessa come regalo no ti sei tutta mia è la mia amore lancia è troppo bella lei no basta è bellissimo allora basta non devo salute non devo dilungarmi troppo il video deve durare poco quindi essere iscritti al canale o un commentino di senso compiuto potete lasciare quanti commenti volete potete condividere questo video su google plus o sui social che volete non mi importa non c'è vincolo per quello imparate che commentiate mettete appunto mi piace questo video residenti in it solo residenti in italia o avere una residenza in italia maggioranni o minorenni non mi importa non vi sto mandando chissà cosa a casa come regalo l'avete visto sono questi due e poi nient'altro insomma buona fortuna a tutte e ci vediamo al prossimo video ciao